Sei pronto? Sì Nome e cognome Soprannome Mi chiamo e mi parlo così Ok Quanti anni hai? Amici Di che giorno li compi? 8 mila Che classe fai? Sono passati in media Ok Materia sì Che ti piace Materia no Allora Quella che mi piace In inglese Quella che mi piace Giovanni Animale preferito L'acqua Colore preferito Rosso Cibo preferito Pizza Che sport fai? Ginnastica artistica maschile Da quanti anni? Circa 30 Perché hai scelto proprio la ginnastica artistica? I miei genitori mi volevano fare sviluppare tutti i muscoli del corpo Allora ero d'accordo e sono andata a fare ginnastica Ok Qual è il tuo attrezzo preferito? Corpo libero L'attrezzo che ti piace meno? Parallelio Parallelio L'elemento più difficile che sai fare Scegli tu l'attrezzo Parallelio Parallelio L'acchiplunga Ok Come ti senti quando sei in gara? Mi sento un po' Un po' E hai un portafortuna? Sì Cioè? E' un po' pazienza Come ti senti quando non ti viene qualcosa? Mi sento un po' triste, però allo stesso momento un po' anche arrabbiata. Ok. Qual è il tuo rapporto con il tuo allenatore? Cioè andate d'accordo, non andate d'accordo. Non ti sgrida mai? Era la vita. Un tuo pregio o un tuo difetto? Sono buono. E il difetto invece? Non so trovare scuse. Non sai trovare scuse? Non sai mentire? Non so mentire. Eh, ma è una cosa bella, una cosa brutta. No. Dai, farai qualcosa di sbagliato. Non hai difetti. Non hai difetti? No. Un uomo perfetto. Fai un saluto matto? No. 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 No.